Il progetto che assicura i rifornimenti idrici di Los Angeles e di altre 12 città della California meridionale. Il grande acquedotto è lungo 390 miglia, dal fiume Colorado ai piedi della grandiosa diga di Boulder fino alle coste del Pacifico e convoglia l'acqua del fiume mediante canali attraverso il deserto californiano e mediante trafori attraverso catene di monti. Questo scavato nel cuore dei monti San Bernardino è lungo 18 miglia ed è stato ultimato mentre si giravano queste scene. In complesso questi trafori di 5 metri e mezzo di diametro si svilupperanno per 180 miglia. La spesa per l'intero acquedotto che sarà presto ultimato è preventivata in 220 milioni di dollari. La spesa per l'intero acquedotto è lungo 18 miglia. La spesa per l'intero acquedotto che sarà